Tutti abbiamo una muta, una muta di una marca che ovviamente non è conosciuta, una marca diciamo qualsiasi. Come taglia? Allora se solitamente prendete la S effettivamente vi consiglio di prendere la taglia in più quindi la M. Ovviamente questo è un taglio da donna ma appunto la questione della conversione delle taglie funziona funziona molto quindi sempre prendere una taglia in più. Avrete quindi una muta che al suo interno sarà abbastanza comoda, non è assolutamente assolutamente larga però sulla parte delle maniche e sulla parte invece delle gambe avrete una parte più ristretta che farà sì che non vi entri l'acqua quindi all'interno dalla parte delle braccia all'interno abbiamo una taglia che è leggermente più più comoda quindi ad esempio qui sulle scapole avrete un pochino di gioco come qui invece sul sul cavallo ma sulla parte invece delle gambe e delle braccia appunto l'acqua assolutamente non vi entrerà perché sarà molto stretta. Qui abbiamo delle parti più con un tessuto per far sì che non si graffi non si non si laceri perché magari quando nuotiamo andiamo contro dei sassi degli scogli su queste su queste parti e poi dietro abbiamo ovviamente la classica chiusura abbiamo una cerniera che è abbastanza grossa quindi per essere anche chiusa aperta da soli abbiamo un laccio un pochino lungo e abbiamo questo anche sistema poi di chiusura che va a chiudere la parte la parte del collo. Allora per il prezzo che ha secondo me diciamo che è abbastanza un buon prodotto ovviamente non andrete a comprare una marca top di qualità però per magari appunto delle immersioni così sporadiche ha senso se volete spendere un pochino di meno e comprare una muta del genere piuttosto che spenderne il doppio se non di più e comprare una muta però di marche conosciute collaudate che magari vi accompagnerà per molto più molto più tempo qui a voi a voi la scelta sicuramente questo è un prodotto che comunque funziona non ho trovato nulla di strano ciao